Hasbro Pulse è arrivato finalmente anche in Italia. Per l'occasione Hasbro ci ha mandato questa mystery box piena di action figures. Vediamo che cosa contiene. Allora, innanzitutto questa action figure di Leia, realizzata per il cinquantesimo anniversario della Lucasfilm. Poi abbiamo queste action figures di Transformers di Ultramanus. Queste sono una serie di action figures dei Rebel Fleet Trooper della Star Wars Vintage Collection. E infine abbiamo due action figures della serie Marvel Legends di Wolverine e Jowgli. Hasbro Pulse è una piattaforma online dedicata ai collezionisti Hasbro che dal 21 settembre è sbarcata anche in Italia. Al suo interno potrai trovare prodotti esclusivi dei franchise più amati come J. Joe, Power Rangers, Transformers, Fortnite, Ghostbusters, Marvel e Star Wars. Tra novità esclusive, crowdfunding e articoli presentati in fiera c'è proprio l'imbarazzo dalla scelta. Link in bio per saperne di più.